Ma cambia in meglio mi sembra, cambia in meglio grazie al nuovo slancio e soprattutto innovativo slancio che dà il direttore Shell, cambia in meglio perché la ASL decide di seguire in qualche modo la progettazione, la programmazione che c'è del territorio affinché ci possa essere una perfetta congiunzione tra quelle che sono le esigenze e anche le offerte del sistema sanitario con le offerte dei servizi della città. In realtà ci sarà questo progetto di rifascimento, perché di questo dobbiamo parlare, del distretto sanitario di base dello Scalo con il nuovo consultorio all'interno e ci sarà però anche un investimento sulla parte alta, nel vecchio Santissimo Annunziata, che ospiterà oltre i servizi che già di vaccinazione e di prelievo anche quello dell'UCCP, cioè della connessione tra la medicina di base e ovviamente quella della sanità ospedaliera. L'area non è stata individuata, è stata individuata una porzione di città che deve essere in qualche modo centrale o meglio connessa con la stazione di Chiediscalo che noi abbiamo individuato come l'area dalla qual far partire tutta l'utenza del distretto, perché lì c'è un sistema di trasporto pubblico che si attesta in quell'area, perché lì c'è un parcheggio comunale che adegueremo affinché sia maggiormente funzionale rispetto alle esigenze anche del distretto sanitario. Noi abbiamo, come già detto il sindaco di Chieti, fatto un progetto tra le istituzioni, quelle del territorio, cioè ASLE Comune, e questo è il metodo che questa direzione generale vuole portare avanti su tutti i distretti di base e chiaramente noi focalizzeremo a riqualificare i servizi territoriali per decongestionare gli ospedali. Chiediscalo non aveva un distretto all'altezza della popolazione che appunto è emigrato negli anni verso la parte più produttiva di questa città e chiaramente noi seguiamo la popolazione in prossimità, dove possibile. Noi vogliamo far viaggiare, diciamo, in una logica anche di responsabilità sociale dell'ente pubblico, meno i pazienti con la macchina, ma appunto un'internodalità con il sistema di trasporto pubblico, sia su rotaia che appunto con il trasporto locale, nel progetto strategico del Comune di Chieti.